Teresanna Pugliese ha condiviso con i suoi follower di Instagram una notizia sorprendente, dopo nove anni di attesa, è in dolce attesa. La rivelazione è avvenuta in due lunghi video in cui ha raccontato il percorso travagliato che ha vissuto. A gennaio, dopo un ritardo, una sua amica le ha suggerito di fare un test di gravidanza. Senza grandi aspettative, Teresanna lo ha fatto e, con grande stupore, il risultato è stato positivo. Dopo un momento di shock e confusione, ha deciso di nascondere il test, desiderosa di confermare la notizia prima di parlarne con il marito Giovanni Gentile, con cui ha già un figlio, Francesco. Dopo aver prenotato una visita con il primo medico, i risultati delle beta HCG sono risultati altissimi, suscitando preoccupazione nel dottore che ha temuto una gravidanza extraotterina da trattare d'urgenza. Questo ha catapultato Teresanna in un periodo di grande angoscia. Fortunatamente, un secondo parere ha smentito la diagnosi iniziale, rivelando che non si trattava di un aborto in corso. Finalmente, dopo anni di speranze, Teresanna sta vivendo una gravidanza serena e felice, celebrata con sole e balli e a settembre darà il benvenuto al suo secondo bambino.